Le ali degli angeli che trionfano sulla varetta di San Sebastiano non erano in origine dorate, eppure la comunità mistrettese così li ricorda, per via di un restauro del passato, parliamo di circa 30 anni fa. L'ultimo intervento, recentissimo, portato a termine da Gaetano Caruso, restauratore, ha fatto sì che la varetta di oggi si avvicini il più possibile all'opera originale, realizzata intorno alla metà del 1800 da un artista sconosciuto. Il restauratore ha lavorato sulla varetta da settembre a dicembre scorso, concentrandosi sul basamento e su tutta la varetta. È stata fatta tutta una stuttatura, il fissaggio di quelle parti che ammalorate, è stata rimessa la foglia in argento, perché lì è argento meccato, e si è intervenuti sulle lesioni, abbiamo fatto tutta una zettatura nelle lesioni che si erano create, perché purtroppo da 30 anni a questa parte nessuno aveva messo mano nella varetta. Sono stati portati alla luce quello che si è trovato, quello che era ricoperto, ristoccato, e si è integrato sia sul rosso che anche sul finto marmoverde. È la stessa cosa sulle cornici. Quello che abbiamo trovato è stato anche un rifacimento dei due angioletti, che sinceramente si pensava avessero anche le ali dorate, e invece questo non è vero, abbiamo ritrovato il colore originale, e anche l'incarnato ce n'era parecchio. È stato fatto sempre dalla fede dell'Eneri questo impianto a led, è ottimale perché comunque ridona bellezza a quello che è la varetta, gli angioletti della varetta, e anche in questo caso possono diminuire la luce, sempre tramite l'applicazione.